ciao a tutti oggi vediamo la dji power 1000 con i pannelli solari da 120 watt benvenuti in un nuovo video di quadricottero news le confezioni sono queste dji power 1000 pannelli solari da 120 watt vediamo cosa c'è all'interno del primo cartone contenente la power station quindi foglietto informativo cavo di ricarica di rete con una presa asciuco ed eccola qua la power station arriva così vediamo che i lati ci sono due confezioni vedremo tra poco cosa che osservano questo è il pannello frontale e questa è l'etichetta di lato che ci indica già subito cosa in grado di fare questa power station che dj chiama 1000 queste a lato sono semplicemente due protezioni che non contengono nulla hanno la funzione come protezione sono queste due pratiche maniglie che permettono il trasporto anche perché pesa 13 kg qua di lato ci sono due attacchi e questo è il pannello frontale uscite a corrente alternata con una potenza massima che ci permette di utilizzare strumenti ad alto assorbimento questa è per l'alimentazione per ricaricare la power station con l'adattatore di rete e questi sono due connettori sdc che possono fungere sia da ingresso che da uscita da ingresso ad esempio per collegare pannelli solari fino a 400 watt in ingresso mentre in uscita fino a 240 watt ad esempio per la ricarica super veloce delle batterie di alcuni droni dj tra poco vedremo quali queste sono le uscite usb a fino a 24 watt ma la caratteristica che la distingue rispetto alla concorrenza sono i 140 watt dell'uscita di tipo c un'altra caratteristica interessante è quella che può funzionare da gruppo di continuità in caso di mancanza di corrente mantiene alimentato e acceso ad esempio computer e altra strumentazione tra l'altro è anche abbastanza silenziosa 23 decibel proviamo ad accendere il tasto di accensione questo singolo tocco quindi non è come i droni che richiedono il doppio tocco vediamo subito che il pannello ci indica che la percentuale di ricarica è al 58 per cento vediamo cosa c'è all'interno della scatola del pannello abbiamo subito questa scatola che è l'adattatore per collegare il pannello alla power station abbiamo questa borsa ecco la borsa dji per la power station devo dire ottimi materiali qua abbiamo gli spazi per far passare le maniglie e si trasporta così in questo modo allora vediamo i pannelli solari come si possono posizionare un'apertura che contiene il cavo da collegare alla power station tramite l'adattatore questa è una soluzione facilmente trasportabile la qualità dei materiali è elevata ovviamente dobbiamo fare un compromesso tra trasportabilità e potenza questi sono da 120 watt perché le dimensioni sono quelle che sono notiamo che gli angoli ci sono anche delle asole qua vedete che abbiamo i supporti che quando è tutto ripiegato si possono fissare con il velcro quindi molto comodo naturalmente attenzione ai cani fate in modo che non facciano la pipì sui pannelli naturalmente va orientata il meglio possibile rispetto al sole oggi c'è poco sole però vediamo quanta capacità di carica ha la situazione questa ci sono delle nuvole e quindi sole oggi filtra poco e questo è l'adattatore per la ricarica rapida del drone air 3 mentre questo è per la serie mavic 3 e questo è il regolatore mpt per collegare il pannello alla dji 1000 è fornito di anche di staffe di fissaggio buloneria e anche chiave a brugola ad ogni mpt possono essere collegati fino a tre pannelli per un totale di 400 watt e alla dji 1000 possono essere collegati 2 mpt quindi un potenziale di 800 watt di ricarica solare allora vediamo subito come funziona questo è il cavo che arriva dai pannelli lo colleghiamo in una di queste prese ecco qua quindi già vediamo che c'è un led verde acceso non so se si riesce a vedere piccolissimo e questa spina la colleghiamo qua in una di queste due prese proviamo e voilà vediamo cosa accade ecco qua che sta iniziando a caricare vedete 52 53 in input in questo momento 51 watt che arrivano dai pannelli la batteria al 58 per cento di carica in uscita niente perché non ho collegato ancora nulla e sotto al 58 per cento abbiamo visto che indicato 9 ore cioè se continua così ci metterà 9 ore a completare la carica con 51 watt in entrata i pannelli sono in ombra quindi effettivamente c'è poco sole dovrei forse spostare leggermente più indietro ecco qua adesso c'è un po più di sole vediamo quant'è la percentuale di carica cioè quanta potenza di carica 80 watt più o meno 79 e adesso ci metterà 6 ore a caricarsi completamente ovviamente oggi cielo è un po nuvolo quindi la sola e la luce che filtra è poca allora vediamo adesso che il sole parzialmente coperto dalle nuvole quindi c'è veramente una luce fiocca vediamo quanto riesce a caricare cioè che potenza arriva 20 watt dai pannelli dal 58 siamo passati al 59 per cento adesso 25 sta aumentando perché il sole sta aumentando l'intensità le nuvole si sono spostate e quindi sta incrementando la ricarica nel frattempo qua vediamo che abbiamo il mavic 3 pro con le sue batterie e con l'adattatore di ricarica rapida che è questo che ho collegato qua in dotazione c'è anche quello per i3 però vediamo che ha una batteria singola quindi vediamo cosa succede ecco che ho collegato una batteria del mavic 3 pro inizio della ricarica vediamo a che potenza vedete che qua a 100 watt ricarica anche di più vedete 130 naturalmente la power station indipendente dei pannelli quindi funziona anche senza pannelli collegati in questo momento abbiamo 40 watt in ingresso 145 watt in uscita per ricaricare rapidamente la batteria del fantastico mavic 3 pro ora proviamo a vedere se di collegare anche in ricarica queste due batterie con l'adattatore originale del mavic 3 pro quindi utilizzo un'uscita di tipo c pd power delivery che è il massimo della potenza quindi collego questo qua l'altro capo lo collego qua ed ecco che sono in carica anche le batterie con l'adattatore originale ovviamente quali carica una volta vediamo che potenza esce in totale 212 watt qua arrivano 61 watt secondo l'indicatore qua quindi 61 watt per caricare le due batterie col caricatore originale e il resto per caricare rapidamente questa batteria esiste anche una versione più piccola la power 500 di circa 500 watt ora contro i circa 1000 watt ora della power 1000 qua vediamo un piccolo confronto tra le due per quanto riguarda la capacità di ricarica dispositivi quindi un telefono cellulare la power 1000 lo ricarica circa 57 volte mentre la 500 28 volte un frigorifero per auto potrà funzionare per 19 ore con la power 1000 mentre 9,7 ore con la 500 e qua un confronto sia sulle potenze in ingresso che in uscita tra i due modelli in conclusione le power dji sono interessanti soprattutto la 1000 e soprattutto per chi ha droni dji compatibili con la ricarica rapida la qualità dei materiali e le rifiniture sono di livello elevato e ci sono alcune caratteristiche che le differenziano dalla concorrenza ed è forse per questo che il prezzo è leggermente più elevato infatti la dji 1000 costa 109 euro mentre la 500 costa 529 euro e per il momento sono disponibili soltanto sul dji store.it in preordine tra l'altro e gli accessori saranno disponibili prossimamente detto questo vi ringrazio per l'attenzione vi invito ad iscrivervi al canale fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti l'appuntamento per il prossimo video ciao a tutti e buona continuazione